Musica Questa notte ho dormito in un bello breakfast però ad Asolo, quindi un po' lontano da qua e niente, perché ieri sera volevo fare un giretto per la città vecchia, poi la sera torno e l'albergatore mi dice come mai sei qua, io vi racconto che comunque l'una faccio questo corso di memoria e lettura veloce e lui mi ha detto ma va, anche io ho fatto dieci anni fa, con la Nicoletta, cioè si chiamava Brain Up, ho detto sì, quindi ho detto sì Nicoletta sono venuta con mia figlia e insomma alla fine mi ha detto mi chiamo Albertone, mi ha detto e tra l'altro che lui sta usando ancora le tappe che le troverai, quindi questo signore antiano del Dying and Breakfast era lì e mi ha detto esattamente questo che ci sono rimaste un attimo, e insomma fino ad Asolo, perché prima o prima o prima o prima o prima o prima e insomma e insomma